Allora è così! Anche il tuo papà disegnava, era addirittura un pittore! Può darsi che sia stato proprio lui a trasmetterti l'amore per il disegno! Devi essere molto felice! Adesso potrai continuare senza che qualcuno te lo viedi! E non perderò! È come se mi stessi guardando alla specchia! Sono così felice! Alla fine hai fatto anche il mio ritratto, Lello! Ieri mattina sono andata ad Anversa! Ci sono andata insieme a Lello, papà!